Benvenuti, ben collegati, vi ringraziamo della vostra attenzione. Questa sera presentiamo un grande tema importante, il tema dell'ecumenismo. L'abbiamo fatto a distanza dalla settimana di preghiere per il cammino ecumenico, perché il libro non c'era ancora. Abbiamo fatto con l'Arcivesco l'incontro con gli ebrei e oggi presentiamo l'importanza del cammino ecumenico, non per un discorso irenistico, ma proprio per quella dimensione di presenza dei valori che vengono dal Vangelo e dalla luce che viene ad ogni uomo da parte di Cristo. Quindi è importante che noi sappiamo come fare l'ecumenismo, non quindi un irenismo che tutto va bene, ma quali sono i cardini sui quali noi dobbiamo mettere i nostri piedi per poter camminare e essere utili a questo cammino. L'organizzazione è del Vicariato per la Cultura e l'Associazione Studium Fidei. Desidero che ciascuno di voi possa vivere con serenità, interesse e anche con gioia questo incontro. Dopo di me presenterà il pezzo musicale Enzo Semeraro, che appunto dirà la biografia del nostro giovane, che è molto quotato dal punto di vista musicale, molto educato, e poi ci sarà anche un altro ragazzo che a metà della nostra conferenza ci allieterà con la musica. Prego Enzo. Buonasera. Consueto appuntamento musicale affidato al Culto Musica 2022. Lo stacco iniziale di questo incontro è curato da Marco Obersnay e il suo flauto attraverso. Il brano è prelude alla pre-midì d'un fond estratto di Claude Debussy. La chiusura della conferenza verrà data invece da Carlo Maria Zugna. È un ragazzo di 14 anni, primo anno del liceo musicale Carducci Dante, quarto anno del Conservatorio Tartini. Il brano che lui farà alla chiusura è Dia de Novembre di Leo Brauer. Questi appuntamenti sono sempre affidati al Culto Musica e ringraziamo sempre Don Ettore Malnati. Grazie. 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 Aprirà il nostro incontro l'Arcivesco Monsignor Giampaolo Crepaldi, nostro Vescovo, che ha sempre dimostrato tanta attenzione per la cultura e anche per il cammino ecumenico. Attenzione veramente legata a quello che è importante da parte della Chiesa Cattolica. Questa mattina mi diceva una persona della comunità luterana, dell'asilo di via Besenghi, che dobbiamo dire che a Trieste veramente chi è convinto dell'ecumenismo, diceva lui, sono i cattolici. Sì. Quindi dobbiamo molto al nostro Arcivesco, il quale sostiene nella linea appunto giusta non dell'iranismo, ma di quella gerarchia dei valori e delle verità che danno l'importanza alla veridicità del cammino ecumenico. Non tanto un ambra sonnù, ma proprio un voler conoscersi e trovare quello che ci unisce e sottolineare anche quello che ci divide. Prego, eccellenza. Bene, grazie di cuore. Sono onorato e anche contento di presentare questo libro, questa ultima fatica letteraria di Don Ettore, che si intitola Ecumenismo. È un libro che ha anche un sottotitolo molto interessante, che ha fatto un cammino verso l'unità nella verità. E uno, Don Ettore, ha quanti libri pubblicati? Tanti. Una quantità infinita. Una lista interminabile. Questa è l'ultima fatica. Ed è, direi, una fatica che si colloca nella stagione della maturità teologica di Don Ettore. Ma, come lui scrive opportunamente nell'introduzione a questo libro, la spinta è arrivata da una serie di amici i quali lo hanno così sollecitato a mettere per iscritto nei 40 anni, 50 anni di presenza qui a Trieste in un contesto oggettivo, dove accanto alla Chiesa Cattolica, che è predominante, ci sono anche molte, molteplici confessioni cristiane. E da sempre, direi, almeno in questi 50 anni, il dialogo, il confronto, l'iniziativa comune, hanno visto il protagonista Don Ettore. E quindi questo libro, un taglio, possiamo dire, ed è molto importante questo, un taglio personale, dove accanto alla, così, alla riflessione dotta dal punto di vista teologico, bisogna riuscire a scoprire anche quella che è l'esperienza di vita concreta del suo autore. Lui, non so, a lui ha un grande debito di riconoscenza nei confronti, perché è stato anche segretario di un grande mio predecessore, di Monsignor Santin, lui dice che Monsignor Santin, con grande intelligenza pastorale, portava, faceva chiamare gli alchimandriti, eccetera, per quando c'erano incontri con i seminaristi, e questa è una cosa molto interessante, Già allora, e tanti anni fa, direi, questa intuizione dell'intuizione ecumenica era presente, direi, nella prassi anche educativa e formativa della nostra Chiesa. Poi Don Ettore da lì si spinge indietro e va a scomodare anche l'imperatrice Maria Teresa. Dice, l'ecomenismo di Trieste ha un retroterra, un background, in quelli che sono chiamate, anche dal punto di vista tecnico, giuridico, le cosiddette patenti di tolleranza che aveva dato questa grande imperatrice, ed erano, funzionavano queste patenti proprio qui a Trieste. Sappiamo che Trieste con Maria Teresa diventa il porto dell'impero, diventa un crucivia di popoli, nazioni, e quindi anche di esperienze di carattere religioso, e quindi certamente le patenti di tolleranza non sono ecumenismo, ma certamente sono una, direi, la piattaforma su cui andrà poi progressivamente, successivamente, dopo secoli, diciamo, a innestarsi, direi, non solo alla riflessione sull'ecomenismo, ma anche la pratica, diciamo, concreta dell'ecomenismo. Quindi nel leggere questo libro è molto importante cogliere quella che è la riflessione del teologo e anche quella che è l'esperienza, chiamiamola, del prete, ma del prete triestino. E nello sfondo cogliere anche quella che è la situazione peculiare, credo, in confronto anche, non so, penso ai capoluoghi di provincia della nostra regione, ma anche delle altre città italiane, eccetera, non so, ma, scusse, non so, Venezia, o qualche altra realtà, ma la situazione peculiare e originale di Trieste che vede, da quando è diventata una città portuale, vede la presenza di tutte queste manifestazioni di carattere religioso. Questa è la prima cosa che volevo dire, e sono anche molto contento che Donetre abbia pubblicato questo libro, che è comprensibile se viene collocato giustamente nel contesto triestino, anche se non si limita, certamente, non esolisce la sua funzione in questo contesto. La seconda cosa che voglio dire riguarda proprio il sottotitolo, che mi sembra un sottotitolo molto importante. Il sottotitolo è questo, un cammino, intanto, verso l'unità nella verità. L'ecominismo, nella prospettiva di Don Ettore, è un cammino, un cammino che parte, direi, da quella che è la richiesta del Signore Gesù. Utunum sinti, che siano uno. E la preghiera che Lui fa, direi, la preghiera che Lui fa nell'ultima cena, una preghiera che Lui rivolge al Padre, in cui, insomma, come è un lascito testamentario, direi, chiede al Padre, che i Suoi discepoli, cioè la Chiesa, le comunità dei Suoi discepoli e seguaci, siano e vivano in unità. Noi sappiamo che a cavallo tra i 1000 e i 2000 abbiamo avuto la tragedia dello sisma di tutte le Chiese ortodosse e poi nel 4500 abbiamo avuto la cosiddetta riforma luterana con tutte le Chiese protestanti, Calvino, poi è arrivata anche quella anglicana, eccetera. Insomma, sono questi eventi che, direi, hanno, in un certo senso, non so come dire, hanno messo una pietra, di un muro tra quella che è la preghiera del Signore, la prospettiva del Signore, la volontà del Signore e la pratica concreta. Un cammino, quindi, è un cammino, è un cammino che in certi periodi della storia è stato faticoso, è un cammino che in certi periodi della storia insomma, era un cammino di gente ferma e bloccata, era un cammino che qualcuno non voleva neanche sentire nominare, è stato un cammino un cammino piuttosto è partito piano, piano, piano. Finalmente, direi, nel secolo scorso questo cammino ha ricevuto una spinta, viene ben registrato questo fatto dal cosiddetto movimento ecumenico. e che ha avuto così, insomma, la grazia di vedere protagonisti alcuni, direi, anche alcuni cattolici, ma non solo, ma prevalentemente esponenti del mondo, del mondo protestante. Poi, direi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, direi, c'è stata un'accelerazione, il cammino, direi, è partito, il cammino è partito. C'è stata la costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese, c'è stato il Concilio Vaticano II con le acquisizioni, anche dal punto di vista teologico e pastorale, da parte della Chiesa Cattolica, ci sono state aperture, magari un po' più lente, più vaticose, da parte delle Chiese Ortodosse, eccetera, insomma, il cammino è partito. Ed è questa è una grande grazia. È un cammino ancora lungo, però, grazie a Dio, è partito. e se guardiamo l'interno della Chiesa Cattolica, devo dire che su questa strada, se pensiamo all'ecomenismo come una macchina che deve andare avanti, su questa strada, per fare questo cammino, la Chiesa Cattolica fino al Concilio Vaticano II era sempre vista come colei che aveva il piede sul freno, adesso devo dire che è colei che ha il piede sull'acceleratore e purtroppo bisogna anche registrare che sono quelli che una volta sembravano avessero l'esclusiva del piede sull'acceleratore pare che adesso siano passati di rango e ce l'abbiano un po' loro sul sul freno. Però questo lo posso testimoniare perché per dieci anni quando lavoravo a Roma ha fatto parte del Joint Working Group cioè quel gruppo di lavoro si è lavorato molto soprattutto sul Sacramento del Battesimo costituito dai rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese che si è di Ginevra dove sono stato tante volte e della Chiesa Cattolica è stata devo dire un'esperienza straordinaria per me perché non sapevo niente e ho imparato molte cose non so che contributo sono riuscito a dare però devo dire che ho imparato molte cose ho incontrato anche molta gente ho costruito anche molte buone e belle e significative amicizie però sul tema del Battesimo per esempio per arrivare a riconoscere questo Sacramento di fondo come la base la base unitaria per costruire un cammino di carattere ecumenico è stato molto difficile e non ci sia ancora arrivati e non ci sia ancora arrivati sono ancora situazioni giorno d'oggi la Chiesa Cattolica mai riconosce il Battesimo delle altre confessioni il Battesimo di tutte le altre confessioni per questo dico che è il piede sull'acceleratore e ci sono sia in campo protestante sia in campo cattolico sia in campo ortodosso che non riconoscono il Battesimo dei cattolici voi capite ringraziamo il Signore quindi che il cammino è partito e preghiamo il Signore che il cammino raggiunga qualche obiettivo l'ultima cosa che voglio dire per cui il cammino deve essere verso l'unità però come diceva Don Ettore senza i rinismi e direi avendo i piedi per terra cioè nella verità nella verità perché le differenze sono molte che riguardano la comprensione della Chiesa per esempio il ruolo dell'Episcopato dei preti e soprattutto il romano pontifice il ruolo dei sacramenti e il valore dei sacramenti e tanti altri temi insomma quindi cammino bisogna crederci deve andare avanti però il cammino verso l'unità deve essere fatto nella verità permettetemi un'ultima e conclusiva osservazione allora questo è un libro direi molto interessante soprattutto per un aspetto che Don Ettore in questo libro elenca tutte le tappe quelle tragiche di questo cammino e quelle più direi così speranzose quelle più luminose e direi molto interessante l'escursus direi non solo teologico ma anche storico che viene fatto in in questo in questo libro però direi ed è l'ultima osservazione che faccio dove sta l'urgenza del di intensificare l'incontro ecumenico evidentemente non solo per rispondere soprattutto per rispondere a quello che diceva Gesù tu non senti che sia nulla ma anche perché ci troviamo in una contingenza storica molto molto complessa e molto complicata il cristianesimo diviso non è in grado i cristiani divisi non sono in grado di dare quelle risposte adeguate che sono richieste dall'ora drammatica che viviamo se invece fossero uniti probabilmente queste risposte sarebbero più adeguate e più in altezza oggi noi viviamo in un mondo che ha due emergenze la prima emergenza è Dio perché è un mondo direi quello nato soprattutto dalla modernità dal chiamiamolo dall'illuminismo pensavano di insomma gli illuministi dei settecenti di avere solo loro la luce di essere la luce per questo medioevo secoli bui la ragione dei moderni che pensa di costruire il progresso dell'uomo senza Dio e contro Dio e a prescindere da Dio allora la fede cristiana non è importanza se vissuta da un cattolico un ortodosso un protestante è convinta poggia sulla convenzione che senza Dio l'uomo non va da nessuna parte quindi la vera grande emergenza oggi è un'emergenza chiamiamola tra virgolette teologica e a questa emergenza io credo che tutte le chiese devono cercare di trovare quel cammino di unità che le porta a dare una risposta in una stagione di secolarizzazione l'annuncio del Vangelo cioè l'annuncio del Cristo risorto che salva e che è Lui solo che salva e che è il Salvatore del mondo credo che debba essere fatto l'altra grande emergenza accanto a quella di Dio è l'emergenza dell'uomo basta aprire il capitolo di quelle che sono le possibilità tecniche di intervento basta leggere di tutto c'è di tutto c'è di tutto sulla vita sulla sulle relazioni quelle familiari l'ambiente la questione ambientale le questioni sociali le guerre il disordine mondiale eccetera insomma possono i cristiani dare parole dire una parola così scordinata o non dovrebbero cercare attraverso il cammino ecumenico di dire una parola una parola forte proprio per il cammino futuro dell'uomo quindi vedete che l'ecumenismo è richiesto sia a livello direi teologico perché l'emergenza è Dio sia a livello antropologico perché l'esigenza è quella di salvare anche l'uomo quindi questo libro io auguro che venga letto che venga utilizzato dentro anche questa prospettiva che ho cercato di lineare quindi grazie di cuore un grazie all'arcivesco Monsignor Crepaldi che è sempre puntuale nel presentare quelle che sono le tematiche che è chiamato a sviscerare quindi un grande grazie ora diamo la parola al dottor Mario Pregnano redattore del CG1 RAI ma anche uno storico che ci ha dato già un lavoro su tre pontefici e che sta continuando a spulciare soprattutto nel sorgere della Chiesa quindi i padri apostolici i padri apologeti e anche poi nel periodo appunto medievale do volentieri la parola all'amico Mario grazie Don Ettore insomma grazie soprattutto perché l'invito che mi hai rivolto questa sera è un segno di stima gigantesco nei miei confronti perché il tema è enorme mi pare che Sua Eccellenza l'abbia lasciato intendere molto chiaramente e ha a che fare con le emergenze dei nostri giorni non è un un argomento quello dell'ecumenismo come posso dire che possiamo permetterci il lusso di riservare agli specialisti ecco dico solo questo poi entro nel merito del libro che mi sono letto con grande gusto anche posso dirlo con grande gusto perché lo stile è tale che si lascia leggere non proprio tutto d'un fiato ma quasi nel senso che alcune cose vanno rilette meditate però si lascia leggere molto facilmente è un'emergenza che io ho scoperto di avere nella mia vita cioè una delle cose che mi hanno colpito soprattutto di alcuni documenti che tu citi nel libro è che l'ecumenismo l'urgenza dell'unità dei cristiani è qualcosa che tocca la vita di ognuno non riguarda il pontificio consiglio piuttosto che la federazione luterana mondiale o il papo o il patriarca di costantinopole riguarda ciascuno di noi questo è già per me una grossa novità ma quello che voglio ma mi sono appuntato alcune cose perché secondo me vale la pena diciamo così di 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 sviscerare un po' l'argomento per per alcuni punti come tu hai saputo fare secondo me in maniera egregia partendo dalla come ricordava su eccellenza anche dalla da un escursus storico perché naturalmente la situazione in cui ci troviamo adesso è il frutto di duemila anni di storia con tutte le sue contraddizioni di storia dei rapporti fra le chiese e e poi e poi lo stato dell'arte oggi ma c'è un punto che a me ha colpito particolarmente il metodo del dialogo ecumenico è un metodo allora io mi sono insegnato alcune cose che mi hanno colpito a questo proposito intanto mi ha colpito moltissimo un riferimento che tu fai a un certo punto nelle prime pagine del libro a quella che tu definisci a me piace enormemente questa definizione la teologia della pazienza di Dio e fai un riferimento alla parabola del figlio del prodigo cioè Dio in questo momento è come il padre che attende il figlio che torna a casa i figli che tornano a casa uniti ecco è la diciamo così la definizione della pazienza di Dio che sta lì e aspetta che noi facciamo questo cammino il cammino nella verità verso l'unità la seconda cosa che mi ha colpito è una citazione io diciamo idealmente l'identifico come il metodo del dialogo una citazione nota di Giovanni XXIII all'inizio in apertura del concilio Vaticano II quando lui dice che una cosa è il depositum fidei e una cosa è come le verità che stanno alla base del depositum fidei vengono enunciate quindi l'attenzione al linguaggio alla parola terza questione il linguaggio della teologia e della storia che non avevo mai pensato nei secoli passati se ci voltiamo alle spalle guardiamo e leggiamo quello che abbiamo detto e scritto come cattolici come ortodossi e come protestanti come anglicani è stato spesso un linguaggio diciamo di contrasto un linguaggio che in partenza non ha mai cercato l'unità per cui non c'è stata mai attenzione mi pare di poter dedurre questo da quello che tu scrivi non c'è stata mai attenzione ad una carità verso l'altro anche nelle parole che sono importanti per definire diciamo ciò di cui stiamo parlando e l'ultima questione ma la più importante è che è una scommessa cioè il metodo del dialogo ecumenico è una scommessa la scommessa è che più si desidera la verità e più ci si avvicina all'unità ne parlavamo prima no don Ettore e ci veniva in mente questa bella immagine come di due cercatori d'oro o comunque due che cercano un tesoro e sanno hanno la certezza che più scavano e più il tesoro sarà grande e li renderà ricchi e li renderà forti e donerà loro la verità ecco la scommessa è che più si scava avendo a cuore la verità e non l'irenismo come è stato già detto e più l'unità verrà fuori da sé in qualche modo da sola e qui mi veniva non so se è un paragone azzardato forse sì se lo è mi scuso mi veniva in mente la grande inaudita scommessa che fece più dodicesimo a suo tempo quando nel 1939 o giù di lì decise di tentare un'impresa che nessuno aveva mai tentato dei suoi predecessori e cioè scoprire se veramente San Pietro stava lì sotto se veramente San Pietro era stato sepolto sotto l'altare della confessione Lutero è noto prendeva in giro i romani i cattolici romani dicendo sì voi credete pure che San Pietro sta lì sotto beh Pio XII si è rimboccato le maniche e ci ha avuto sto coraggio ha detto andiamo a vedere ecco è lo stesso coraggio la stessa scommessa che mi par di capire ripeto dal libro che tu hai scritto è la stessa scommessa che fanno i cristiani quando decidono di dialogare tra loro nella verità cioè senza dimenticare quella gerarchia delle verità che Don Ettore cita ogni piesso spinto nel libro e che non può che essere il punto di partenza e anche di arrivo evidentemente dell'unità che andiamo ricercando poi la cosa che io sono lui è stato buono ma ha detto che sono uno storico io sono soprattutto un giornalista appassionato di storia ed è vero sì ho scritto alcune cose su alcuni papi sta di fatto che insomma la storia è davvero la mia grande passione e quindi non potevo non appassionarmi alle pagine che Don Ettore impiega per raccontare come si è arrivati dove si è arrivati e quindi i concili quando diciamo così nell'epoca d'oro dell'unità della Chiesa nel primo millennio i concili importanti quello di Nicea quello di Costantinopoli Efeso Calcedonia insomma quelli che hanno formato l'identità della Chiesa e poi la rottura la rottura del 1054 come ci si è arrivati la questione del filioque io mi ricordo che ho sempre sempre sentito parlare un po' esagerato ma insomma ne ho sentito parlare tante volte del filioque non ho mai riuscito a capire bene che cosa fosse fondamentalmente quando noi recitiamo il credo noi diciamo che lo Spirito Santo procede dal parre e dal figlio lo diciamo in modo si può dire io lo dico per me ma insomma meccanico quanti di noi pensano che cosa c'è dietro quante discussioni teologiche c'è dietro quella frase insomma sinceramente non ci pensiamo tanto no e invece ce ne sono perché il fatto che lo Spirito Santo procede non soltanto dal padre che è Dio padre che è la prima persona della Trinità ma anche dal figlio mette il padre e il figlio sullo stesso piano adesso la faccio semplice magari sto scandalizzando su eccellenze Donettere e anche qualcuno dei presenti chiedo scusa per questo la faccio semplice dire che lo Spirito Santo procede cioè proviene dal padre e dal figlio significa mettere il padre e il figlio sullo stesso piano cosa che per la Chiesa Orientale è una quasi una blasfemia per gli orientali per gli ortodossi è a valore di dogma il fatto che lo Spirito Santo viene solo dal padre non anche da Gesù Gesù non è sullo stesso piano di Dio del padre e questo questa diversa concezione dello Spirito Santo ha provocato può sembrare però è così ha provocato una rottura che nel 1054 parliamo di mille di mille anni fa sì proprio di mille anni fa e nel 1054 ha portato alla scomunica reciproca fra la Chiesa di Roma e il parriarca di Costantinopoli c'è stato un tentativo e qui anche qui Don Ettore lo spiega molto chiaramente insomma gli storici della Chiesa lo conoscono si sa insomma nel 1439 a Firenze si tenne un concilio molto importante in cui fra in cui fra cattolici e ortodossi si riuscì a trovare un'intesa cioè la famosa frase filioque che significa anche dal figlio procede anche dal figlio venne accettata venne accolta dalla Chiesa ortodossa però il povero vabbè il povero patriarca di Costantinopoli morì a Firenze durante il concilio e quindi pace all'anima sua ma gli altri che tornarono poi in patria furono presi a pomodorate dai preti ortodossi che non accettarono questa che loro che venne considerata una una concessione eccessiva troppo grande un'usurpazione da parte di Roma nei confronti del del credo di quello che si crede che veniva creduto come quella che era la fede la vera fede dei dei padri ortodossi e quindi le conclusioni del concilio di Firenze vennero rigettate poi arrivò Maometto II conquistò Costantinopoli e tutto se n'è andato a carte 48 quindi la questione è saltata di nuovo ma la cosa interessante è che a Firenze questa è una cosa che mi sono appuntato perché poi viene ripresa è stata ripresa nel 1900 dunque nel 1900 quanto è stato che è? che si sono rincontrati nel 1900 beh sì dopo quando è stata quando è stata ritirata la scomunica nel 1965 sostanzialmente a Firenze i parri conciliari dissero che quella giunta lì che tanto aveva fatto arrabbiare semplifichiamo gli ortodossi e cioè che lo Spirito Santo procede anche dal figlio oltre che dal padre era stata aggiunta era stata aggiunta per rendere più chiara la verità e per una necessità urgente di quel momento lì la giunta del figlioque era stata fatta non in un concilio ecumenico e questo gli ortodossi lo rimproveravano ai cattolici dice non l'abbiamo deciso insieme l'avete fatto voi unilateralmente va bene però i cattolici i romani i cattolici romani la chiesa di Roma ammise che quella giunta lì era stata fatta per un'urgenza del momento e qual era quest'urgenza c'era un'eresia l'arianesimo poi l'adozionismo non sto a spiegare ma insomma l'arianesimo che doveva essere assolutamente combattuto che stava diventando un virus dannosissimo per i fedeli cristiani e che quindi andava arginato e andava in qualche modo assolutamente combattuto eliminato un modo per eliminarlo era quello di chiarire nella maniera più netta possibile che Gesù non era solo uomo come invece diceva Ariano come diceva invece Ario quindi l'arianesimo e in qualche modo anche l'adozionismo qual era questo modo dire esattamente il contrario cioè che Gesù era vero uomo ma anche vero Dio e quindi se era anche vero Dio lo spirito santo procedeva anche da lui insomma era non so se posso dirlo ma lo dico lo stesso una forzatura dettata dalla necessità del momento era urgente fare così era importante fare così la domanda naturalmente è se anche adesso è urgente e importante mantenere quella formula lì ma qui ci vogliono dei teologi per rispondere a questa domanda che fa tremare i polsi l'altra questione sono i protestanti chiaramente un secolo dopo anzi poco meno del concilio di Firenze mentre si tentava di risolvere il problema con gli ortodossi scoppia il problema con la chiesa riformata con Lutero anche lì a Trento un altro concilio cerca di affrontare la situazione lì la questione fondamentalmente è che cosa divideva insomma tra le tante voglio dire tante questioni ma insomma c'era una questione più importante di altre che divideva la chiesa riformata la chiesa luterana dalla chiesa di Roma era quella della giustificazione la teoria della giustificazione per farla qui anche qui breve e mi scuso per queste mie semplificazioni che rischiano di lasciare a casa elementi importanti insomma della nostra questione del nostro dibattito ma insomma per farla breve per i luterani la grazia salva non c'è bisogno delle opere per i cristiani invece è necessario anche diciamo così l'apporto della persona perché la grazia possa agire in modo salvifico pienamente salvifico e su questo accornate naturalmente da Roma da una parte e i luterani dall'altra però a Trento insomma si dice che cito anche qui in Anpassan alcuni documenti riportati da Donettero nel libro il libro è importante perché non è soltanto un come posso dire una purdotta elucubrazione o elencazione di situazioni di storiche teologiche una riflessione eccetera ma lui cita anche i documenti veri e propri e io ripeto faccio il giornalista andare alla fonte della notizia è importantissimo cioè ti sgombra da tutto il resto vai diretto alla fonte e così non si può sbagliare praticamente dice il concilio di Trento che ogni credente riceve la grazia per libera volontà di Dio ma anche secondo la propria disposizione la giustizia cioè l'essere giusto l'essere giustificato è suscettibile di perfezionamento cioè ok la grazia salva ma questa grazia bisogna di essere accompagnata in qualche misura questo questo è lo stato dell'arte dopo il concilio di Trento la seconda metà del Cinquecento oggi qual è la situazione allora nel 1999 importantissima dichiarazione congiunta fra il pontificio consiglio per l'unità dei cristiani e la federazione luterana mondiale in cui si dice che il giustificato cioè la persona che viene giustificata che viene in qualche modo salvata ha la responsabilità di non sprecare la grazia quindi sì la grazia salva ma io come persona sono responsabile che questa grazia che mi viene donata per i meriti di Gesù non vada sprecata quindi una responsabilità io ce l'ho questo è importantissimo perché avvicina le due posizioni per i protestanti per gli ortodossi c'è stato il gesto grandioso che non è è tutt'altro che formale è tutt'altro che apparente è tutt'altro che come posso dire scenografico come invece a qualcuno può apparire il gesto grandioso di Paolo VI e del patriarca Atenagora nel 1965 di ritirare le scomuniche cioè una scomunica vuol dire che che la tua anima è dannata che tu che sei fuori della comunità dei credenti ecco ritirare una scomunica dopo così tanto tempo ha avuto un impatto che veramente come ricordava la sua eccellenza ha poi aperto proprio il cammino era come un macigno che stava su questo sentiero e mi è stato tolto adesso il sentiero è lungo non so se si vede la fine però intanto si può percorrere si può fare insieme e questo è già e questo questo già questo io credo di poter dire è una grazia perché potersi incontrare i documenti io li ho letti molte sono parole anche che si ripetono diciamo la verità però il fatto di incontrarsi e di potersi confrontare su questi argomenti sapendo che ecco l'altra cosa formidabile che il tempo non è un problema il tempo non è il problema del dialogo ecumenico perché per la Chiesa il tempo ieri è uguale a mille anni fa quindi che noi raggiungiamo l'unità domani o fra mille anni non è questo che conta quello che conta è l'attenzione all'unità è l'attenzione all'unità questo è il libro per come l'ho letto e come l'ho capito io mi vengono una serie di domande non posso farne a meno e io se i presenti a questo tavolo me lo consentono le pongo poi chi vuole rispondere sono sono contento ecco questa questa faccenda della dell'unità come un'attenzione mi fa pensare a qualcosa mi viene questa suggestione mi viene mi viene da pensare che sia qualcosa che compiutamente si possa raggiungere quando ci sarà quando il tempo sarà compiuto cioè che sia che sia veramente qualcosa a cui tendere ma che noi potremo vedere soltanto quando quando Dio vorrà e questo non sarà nel tempo dell'uomo non so come dire sarà alla fine dei tempi è verosimile questo eppure un tempo in cui i cristiani sono sempre stati insieme c'è stato l'abbiamo vissuto ma la sensazione leggendo e studiando queste carte anche qualcos'altro insomma che mi è capitato di studiare è che l'unità sia qualcosa a cui l'uomo i cristiani tendono ma che avranno la grazia di vedere nell'ultimo giorno e l'altra cosa che mi viene in mente è questa allora Don Ettore come dicevo prima pubblica e sono molto molto istruttivi pubblica molti documenti congiunti fra il Papa e il Patriarca di Costantinopoli fra il tale Cardinale e il tale Dottore rappresentante delle Chiese Luterane e così via sono almeno una dozzina però la cosa che colpisce me è che da una parte c'è la Chiesa Cattolica per definizione cioè universale dall'altra ci sono tutto sommato delle Chiese che io non posso non definire particolari perché perché quando il Papa incontra il Patriarca di Bucharest si parla ci si rallegra del fatto che è finito l'ateismo dopo la caduta al Muro di Berlino quando incontra il Patriarca di Papa Copto ci si augura che il dialogo con l'Islam prosegua perché chiaramente in Egitto l'Egitto è a maggioranza musulmana quando incontra quello di Gerusalemme ci si augura che la pace è in Medio Oriente quando incontra quando Papa Francesco ha incontrato il Patriarca di Mosca hanno parlato dello scisma ucraino quanto mai non c'è niente di più attuale perché la chiesa di Kiev si è allontanata improvvisamente non proprio improvvisamente ma insomma comunque molto recentemente due anni e mezzo fa meno di tre anni fa dalla chiesa di Mosca da cui dipendeva il Patriarcato di Kiev si è distaccato dal Patriarcato di Mosca e ha creato una chiesa come si dice autocefala a nessuno sfugge che fra Mosca e Kiev c'è purtroppo un conflitto anche speriamo no ma insomma quasi che potrebbe sfociare in un conflitto militare e guarda caso la chiesa ucraina ha deciso di staccarsi da quella da quella russa quindi insomma l'impressione è che non sto facendo una valutazione di parte spero almeno è che soltanto la chiesa cattolica abbia davvero una visione universale le altre no come si spiega è una è una forma di partigianeria la mia io spero di no però questo vorrei essere aiutato a capirlo e l'altra è io ho la sensazione che l'unità dei cristiani la vedremo soltanto alla fine dei tempi è una sensazione forte ma spero che sia sbagliata grazie vuoi mi risposte? eh sì io cerco voi lascerò all'arci dunque anzitutto l'attenzione all'unità c'è stato un incontro con il patriarca Tenagora e Paolo VI dove facevano diciamo la resa dei conti a che punto siamo con l'ecumenismo quando potremo realmente essere uniti e Paolo VI dice è il tempo dello spirito siamo in mano allo spirito e quindi poi c'è tutta una serie di commenti eccetera uno dei commenti che a me è piaciuto quello del Cardinal Wildebrands che era anche presidente della Pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani pone proprio il concetto del tempo il tempo per noi cristiani non è solo Kronos è Kairos è Cristo quindi nella seguire e nel camminare con il tempo Kairos e non Kronos noi ovviamente ci orientiamo verso l'escaton cioè la parusia il giorno ultimo in cui Cristo tornerà nella gloria e prima di questo tempo prima di questo tempo ecco c'è parlavamo oggi a pranzo a pranzo non solo se mani anche se bene e allora il discorso è caduto su questo aspetto dice Cardinal Brim noi avremo sempre accanto colui che divide diabolos demonio colui che divide e la superbia dell'uomo che discende dalla colpa originale che è orientata più a ascoltare colui che divide che invece colui che unisce questa dimensione purtroppo noi ce la porteremo dobbiamo tendere a superare questa diciamo tentazione già la tensione è qualcosa che ci orienta non come sogno ma come speranza all'escaton quindi allora è tutto inutile il nostro lavoro sull'ecumenismo no? è il tendere a realizzare Cristo nella nostra vita dice Sant'Agostino che con il battesimo noi non solo siamo di Cristo ma siamo Cristo poi c'è tutta la teologia va bene del corpo mistico di Cristo la Chiesa ma ecco che noi dobbiamo fare in modo di superare quello che è il discorso della divisione che ci fa star lontani dalla casa del padre e ci divide anche tra fratelli per quello ho voluto portare la parabola del figlio al prodigo no? dobbiamo tendere a questo sapendo che i passi che ci portano vicino al padre possono anche trovare nel fratello qualche cosa di rimprovero ma quello che conta non è quello che dice il fratello cioè non è quello che dicono i monaci del monte Atos come mai voi continuate ad andare a pregare con il vescovo di Roma che è un eretico dicono i monaci del monte Atos e hanno messo in cattura il povero arcivescovo di di Atene quando Giovanni Paolo II è stato in Grecia insieme hanno pregato il padre nostro ha avuto quasi un processo dei vescovi del sinodo del santo sinodo quindi io credo realmente che tu abbia ragione cioè il discorso già Wildebras dice il discorso della piena unione arriverà ovviamente nella parosia però noi intanto togliamo i massi e quindi ci rendiamo conto che c'è colui che ci accompagnerà sempre colui che divide ma noi dobbiamo tendere a questo discorso dell'unità volevo dire una parola del figlioque allora il problema del figlioque che viene affrontato in un primo tempo già nel sinodo di Toledo siamo nel nono secolo del primo millennio e il discorso è proprio questo cercare di fare in modo che non torni le tesi ariane perché le tesi ariane con l'adozionismo portavano anche a considerare che Cristo è solo Dio cioè è solo uomo se Cristo è solo uomo noi non siamo redenti noi non siamo salvati allora è inutile tutto l'evangelizzazione la missione i sacramenti era una cosa molto difficile fare in modo è la distruzione della nostra della nostra fede perché noi crediamo che siamo stati redenti e salvati da Cristo allora il discorso poi perché ecco non accettano questa piccola giunta figlioque no figlio e padre e figlio perché nel concilio di Costantinopoli nel 381 e poi nel concilio di Aquileia sempre 381 sottolineano il fatto che nulla deve cambiare dal simbolo cioè dal credo ma questo non si tratta di cambiare nulla si tratta di spiegare e allora che cosa tirano fuori gli ortodosi prima Fozio e dopo Michele in Cellulario cosa tirano fuori tirano fuori il fatto che noi dicendo che procede dal padre e dal figlio noi poniamo nella Santissima Trinità due cause efficienti l'unica realtà cioè con la R maiuscola è la che è fonte di processione e non procede è il padre ma dai teologi e dai padri antichi noi veniamo a conoscere che c'è una causa che è il padre e la concausa che è il figlio e c'è tutto un discorso di Sant'Atanasio che afferma allora perché uno è padre perché c'è un figlio quindi c'è una relazione ma c'è anche una dimensione oblativa la dimensione oblativa è l'azione della terza persona della Santissima Trinità quindi in sé per sé già dicendo padre io dico l'agire di tutte le altre persone la persona del figlio e la persona dello spirito infatti la teologia cattolica ci dice che appunto il padre è l'unico che è fonte di processione le relazioni sono quattro le processioni sono due processione generazione e processione ispirazione cioè padre figlio e spirito quindi padre figlio generazione padre figlio ispirazione dello spirito in quanto la dimensione della oblatività singolarissima e creativa non soltanto di modo ma di essere perché è persona è già intrinseca nel concetto di padre e di fronte a questo Tertulliano aveva paura di chiamare persone e li chiamò termini ma il concetto è lo stesso quindi la grande preoccupazione dei monaci di Fozio era quella i cattolici i latini così dicevano i latini creano due principi all'interno della Santissima Trinità no il principio è uno altri sono coprincipi questo volevo dirti sempre il discorso altro poi se vostra eccellenza vuol dire chiudiamo sì lui diceva ecco della cattolicità della chiesa nostra universalità sì volevo dire per carità che non perdiate la fede stasera quella cattolica dico volevo dire sia conclusione di questo incontro così molto interessante indubbiamente opportunamente sono state citate le due grandi due grandi questioni ce ne sono state anche altre ma le due grandi quella del cosiddetto filoque quando diciamo il credo la domenica messa diciamo credono lo spirito santo che procede dal padre e dal figlio e quella del tema della giustificazione della cioè dell'intelligenza della salvezza cristiana del tipo della salvezza cristiana Cristo è venuto a far cosa a salvarci diciamo ma allora volevo dire però attenzione che il cammino ecumenico che dopo così si è acuito attorno queste questioni era purtroppo bloccato non solo per questioni di carattere etiologico ma attorno alle questioni di carattere etiologico c'erano interferenze politiche incredibili quando in seguito anche alla diciamo alle separazioni tra chiesa ai processi di secolarizzazione alla modernità paradossalmente le chiese si sono emancipate dal potere politico è partito il cammino ecumenico e anche queste questioni che avevano bloccato come macigni adesso sono questioni sono diventate questioncine piccole sia la questione etiologica relativa al filioque sia la questione etiologica relativa alla giustificazione perché ci sono ci sono di fatto delle cose insieme questo è molto importante cioè cogliere che più la chiesa è libera più le chiese sono libere provate a pensare ai principi i principi tedeschi al tempo di Jotero no? più la chiesa è libera più la chiesa è pronta per i processi di unità dico soprattutto libera dalle catture di carattere dalle catture delle indifferenze di carattere politico dopo personalmente io sono molto contento del filioque perché insomma lo spirito santo procede dal padre va bene procede anche dal figlio il figlio nel primo capitolo della Vangelo di Giovanni è il logos è la ragione quindi lo spirito procede dalla ragione di Dio insomma quindi non è uno spirito così è uno spirito ordinato ragionevole eccetera insomma lo spirito santo quindi seconda cosa che voglio dire è un atto di sfiducia nel cammino dell'ecumenismo proiettarlo nella prospettiva escatologica no? dal punto di vista sostanziale sì però insomma non mettiamo limiti alla providenza di Dio ma se capita l'altra cosa che voglio dire c'è addintra direi delle vicende cristiane qualche problema effettivamente la chiesa cattolica per la composizione che ha per la eccetera insomma per avere anche un papa è in grado di reggere questo cammino proviamo a vedere quello che sta capitando a livello di ortodossia lo scontro proprio sulla questione ucraina tra Mosca e Costantinopoli e nella guerra in atto anche per la prospettiva cesropapista che ha l'ortodossia nello scontro in atto tra Russia e Ucraina io credo che la questione dell'ortodossia sia una questione centrale il grande freno a giorno d'oggi è la competizione all'interno delle chiese ortodosse l'altro grande problema è la frantumazione in movimenti pentecostali di quelle che sono le comunità protestanti soprattutto quando il protestantesimo è migrato dall'Europa agli Stati Uniti la prospettiva teologica del protestantesimo della sola fide sola scrittura eccetera ha fatto implodere il protestantesimo con ognuno si crea la sua chiesa la sua immagine e la sua omiglianza e purtroppo hanno anche un po' di soldini stanno invadendo l'America latina e mettendo in grande difficoltà la chiesa cattolica io sono andato nelle mie esperienze e chiudo qui sono andato più di qualche volta in Brasile anche all'interno di questi paesini anche nelle zone più povere eccetera voi trovate attorno alla piazza una volta ho contato anche sette cappelle tra cui c'era quella cattolica quella dei pentecostali dei pentecostali uno dei pentecostali due una frammentazione incredibile per cui grazie a Dio che c'è la chiesa cattolica che regge lo dico veramente non con supponenza ma anche per l'avevo toccato con mano grazie a Dio che c'è la chiesa cattolica che regge di fronte agli scontri interni e all'ortodossia e alla frammentazione implosione del panorama un po' protestante grazie di cuore grazie Don Ettore grazie a tutti voi ora chiudiamo con l'esibizione musicale di questo bravo studente grazie a Dio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.